GF VIP 7, Edoardo Donnamaria sempre più vicino a Murgia, il video che sta facendo mormorare i social. Sono stati giorni molto particolari per il gruppo degli spartani dopo il Van Gate che ha preso piede nella casa del grande fratello VIP. Dopo la diretta dello scorso giovedì, quando Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Edoardo Tavassi e Nicole Incurvaia erano intenti a cospirare. Qualcosa si è spezzato. I quattro sono stati mandati d'ufficio al televoto, dopo le immagini mandate in onda dal conduttore. Senza gli audio in quanto impubblicabili come ammesso da Signorini, insieme alle tre nominate Antonella Fiordelisi. Nikita Pelizzone e Oriana Marzoli, sconvolgendo in parte gli equilibri della casa. Stando a Luca Onestini il tutto è stato architettato per fare uscire uno del loro gruppo. Al pubblico delle reality show è rimasta la curiosità di sapere cosa i quattro vipponi si sarebbero detti. A parte le battute non di certo Goliardi che sulla presunta bisessualità di Daniele Dal Moro. Quello che non è passato inosservato al popolo del web però in questi giorni è stato il feeling sempre più crescente fra il volto di Forum e la Murgia. In molti si sono chiesti se fra i due fosse successo qualcosa nel van. Nelle scorse ore è iniziato a circolare su Twitter una clip in cui Nicole racconterebbe a Milena Miconi di un presunto bacio che Edoardo Donnamaria avrebbe provato a darle. Il video è stato anche riportato da Dejanira Marzano. Dir uguale a LTR lang uguale it span e la clip non si capisce bene a chi si riferirebbe. Secondo i fan però. L'ex moglie di Stron Andrea Bertolacci span avrebbe raccontato all'ex star del bagaglino di un presunto tentativo di bacio da parte di Stron Donnamaria. Dir uguale a LTR lang uguale it secondo altri invece l'attrice romana avrebbe parlato di Antonino Spinalbese. Dir uguale a LTR lang uguale it in merito a questo feeling il web sembrerebbe essere spaccato in due. C'è chi pensa che sia una provocazione nei confronti di Antonella Fiordelisi, chi invece pensa che ci sia una maggiore intimità fra i due vipponi. Dir uguale a LTR lang uguale it tra la morge di Edo c'è qualcosa che nn va, non mi convince questa situazione. Edoardo sta vicino a lei e la guarda H24EX1F602, mi sa che è successo qualcosa tra i due. Punto se ha veramente tradito Antone uno schifo GFVIP7Fjordetelfosignorinietgrandefratelloetessbruganellietjuliasalemi93pictwittercom lkvn1web7 Grazie. Grazie.